Ciao a tutti ragazzi, sono Yomeshan e benvenuti in questo nuovo video. Oggi torno con la rubrica riguardante le novità manga e comics e le uscite previste, sempre per quanto riguarda i casi editrici della Planet e la Star Comics, questa volta per quanto riguarda il mese di gennaio 2020. La prima di cui parlo dovrebbe uscire il 13 gennaio riguardante la Disney, si chiama Le grandi sfide, zio paperone verso il rock and duck, al prezzo di 5,90€. In arrivo una nuova collana in cui si affrontano a colpi di storia fumetti storici nemici del mondo Disney. Il primo numero è dedicato ai rivalissimi in affari, zio paperone e rock and duck. Chi di dove sarà il più ricco di paperopoli? Passando poi invece al 16 gennaio vi mostro Fire Force 1, però, Discover Edition. In pratica sarà un prezzo speciale a solo 1€. Eccolo qui. Fire Force inizia qui. È il primo numero con una nuova copertina dell'ashon di Asushi Okubo, l'autore di Soliter. Persona avvolta dalle fiamme, il misterioso fenomeno della combustione umana. Per fronteggiare e attivare minacce dei mosi di fuoco è stata creata la Fire Force. Il 17 invece di gennaio, a prezzo di 3,90€, avremo anche Paper Dollari. Quello tra paperonde e paperoni e i dollari è un rapporto di lunga data, che questa uscita speciale celebra, con 7 storie dedicate al miliardario paperopolese, tra cui la bella, un popolo da 10.000 dollari, filmata da Angelo Palmas e Lara Morinari. Un volume speciale per i collezionisti per completare la raccolta delle mitiche banconotti di paperopoli. Qui regalo, come in tutte le altre uscite, dell'operazione Paper Dollari. Passando al 23 di gennaio, vi mostro una delle novità che prenderò molto volentieri. Si chiama Somali, lo spirito della foresta. Lo troverete al prezzo di 7,50€. È un racconto sulla diversità e sulla scoperta. Somali è una ragazzina rimasta solo al mondo. Il Gollum è un guardiano della foresta. Insieme intraprendono un cammino che li porterà lontano, avvicinandoli sempre di più. Essere fatati, misteri, spiriti e demoni in un viaggio che vi incanterà. Il 27 di gennaio dovrebbe uscire anche 100% musica, al prezzo di 6€. In un periodo dell'anno in cui le competizioni canore sono l'argomento principale, 100% Disney è dedicato alla musica. Una divertente parodia apre volume, Paperinic e il Fessi del San Romolo, di Bruno Sarda e Giorgio Cavazzano. 10 avventure tra sabotaggi musicali e concerti. Per l'ultima novità di cui parlo dovrebbe uscire il 30 di gennaio e si chiama Io e Mr. Fahrenheit, she likes homo, not me, al prezzo di 7€, in lotta contro il proprio cuore. Un ragazzo colpevole in nutrire sentimenti proibiti, in un mondo che lo vorrebbe diverso. Il romanzo di Daoto Asara, che viaggia sulle note di Queen, si sposa con la letteratura disegnata in un manga che dona alla vicenda di Junando nuove sfumature. L'ultima novità di cui parlo per quanto riguarda la planet è un altro romanzo dedicato a Naruto, però questa volta abbiamo Le nuove avventure di Shikamaru, una nuvola in pensiero per i fiori al vento, e lo troverete sempre al prezzo di 12,90€ dotato di una sovraccoperta. Di siti in comprensione il nuovo romanzo ispirato a Naruto. Il mondo è sull'oro della quinta guerra mondiale dei ninja, e Shikamaru deve anche confrontarsi con una marea di problemi familiari. Come farà la stratega per eccellenza del villaggio della foglia a districarsi fra tante seccature? Questa era anche l'ultima novità per quanto riguarda la planet e la Disney. Devo dire, hanno annunciato diverse serie molto interessanti, soprattutto la Disney, però penso che prenderò molto volentieri il primo volume di Fire Force, che ancora non ho avuto possibilità di prenderlo, e anche quello regalante Somali. Mi hanno curiosito, se non mi sbaglio avevo già fatto anche vedere per il Free Comic Book Day, se non mi ricordo male. Ora direi di passare velocemente a farvi vedere le novità per quanto riguarda la Star Comics. Allora, prima novità per quanto riguarda la Star Comics e che prenderò molto volentieri è riguardante Renzi la strega, però nuova edizione, no edition. Dovrebbe uscire l'8 di gennaio al prezzo di 5,90 euro e sarà dotato di una sovracoperta. Riturano delle eroine manga più anticonvenzionali che ci siano. Ranz e Eto sembrerebbero una normalissima studentessa in seconda media, con tanto di cotta per il suo compagno di bianco, ma nasconde un piccolo segreto. Ha un padre vampiro e una madre ricantropo, nonché il divieto assoluto di innamorarsi di un umano. Cosa accadrebbe se un giorno, accidentalmente, desse un morso alla sua rivale d'amore e i suoi poteri latenti si risvegliassero? Torna liberia e fumetteria il celeberimo manga della maestra Ikeno, noto al pubblico italiano come Renzi la strega, che dagli 80 non ha mai smesso di far battere i cuori degli elettrici, ora finalmente disponibile in una nuova edizione da urlo. Questo penso che lo prenderò molto volentieri. Il 15 di gennaio invece avremo anche Lo sfigatto fallisce ancora e troverete al prezzo di 12 euro dotato di alette. Volere e potere? No, non sempre. A volte la volontà e l'impegno non bastano per riuscire nei propri intenti, proprio come accadrà il nostro sfigatto. Maggiore il numero degli interessi che coltiva e delle imprese in cui prova a cimentarsi, maggiore il numero dei colossali fallimenti che finisce per accumulare. Ma il nostro sorgnone amico non si lascia scoraggiare, seppellendo con la sua proverbiale pacatezza o nelle difficoltà un insuccesso. Non partitevi il secondo volume delle sue disavventure, a gennaio libreria e fumetteria. E l'ultima novità anche per quanto riguarda la Star Comics è riportante Dragon Ball. Questa volta provi pari Dragon Ball Collège 1, 1 di 7. In pratica torna la tanto amata Evergreen Edition di Dragon Ball, il manga più famoso al mondo, creato dalla mente e matita del maestro Akira Toriyama, in 7 cofanetti pratici e convenienti. Lo troverete questo primo cofanetto al prezzo di 25,80€. Faccio vedere come dovrebbero venire, penso, i cofanetti. Quindi, per chi volesse approfittarne per prendere Dragon Ball dall'inizio, penso che siano molto anche convenienti come volumi e soprattutto carini da vedere. E questa era anche l'ultima infatti novità per quanto riguarda la Star Comics. Di questa casa editrice penso che prenderò volentieri Renzi la strega, come vi dicevo all'inizio. Ora direi di passare brevemente a tutte le uscite previste iniziando, come sempre, dalla planet. Allora, il primo di gennaio dovrebbe uscire soltanto Topolino 3345, il 5 di gennaio Paperi Nick 37, l'8 di gennaio Topolino 3346, mentre per quanto riguarda il 9 di gennaio Gigante 2, Morsi e Lago 15, Dimension W numero 16, l'attacco di Giganti 4, quarta ristampa, seconda ristampa anche per l'attacco di Giganti numero 18, poi abbiamo One Punch Man numero 5, prima ristampa e prima ristampa per One Punch Man numero 6 e One Punch numero 10, Naruto 12, terza ristampa, il 15 di gennaio i grandi classici Disney 49 e Topolino 3347. Passando al 16 di gennaio Bungo Stray Dogs 17, i Fiori del Male 4, prima ristampa, Solitere 1, quinta ristampa, Neogenesi Evangelion 13, prima ristampa e prima ristampa anche per Neogenesi Evangelion numero 14, Death Note 7, sesta ristampa, Jujutsu Kaisen numero 2, Darmis Game 17, One Punch Man 19, Studio The Sea 2, prima ristampa, Kanga Shura numero 6 e Slendunk numero 5. Il 20 di gennaio soltanto Disney Big 142, il 22 di gennaio Topolino 3348 e invece passando al 23 di gennaio avremo Star of the End 11, prima ristampa e Star of the End numero 16, prima ristampa, Takane Ana numero 13, Fire Force 17, Atelier Witch Hat numero 5, Banana Fish numero 2, Beast S11, Gazinger Girl numero 6, L'Immortale Complete Edition numero 4, Arte 11 e Nana Reloaded Edition numero 9. Il 29 di gennaio soltanto Topolino 3349 e poi concludo per quanto riguarda la planet con il 30 di gennaio che dovrebbe uscire Seraph of the End, Guren, Cynose, Catastrophe Sistine numero 4, Paperino 476, Kennel Guerriere 8, prima ristampa e quarta ristampa per Hunter Hunter numero 6. Hunter Hunter numero 12 però terza ristampa, Bungos Redox 2, prima ristampa, Fire Force 1, prima ristampa, Pluto 5, terza ristampa e quarta ristampa per Vagamon de lazio numero 2. L'Attacco di Giganti numero 29, Amarsi e Lasciarsi numero 12, Sessus 2 serie 9, Neogenesis Evangelion Anima 2 e Sister and Vampire numero 7. E passando all'uscita prevista invece per quanto riguarda la Star Comics, l'8 di gennaio The Seven Deadly Sins 33, Queen's Quality numero 7, Dottostone numero 9, Eden Zero numero 4, Lamu Urusei Yatsura numero 5. Il 15 di gennaio Praticare Dead and Sailor Moon Eternal Edition numero 3, Dash Cappé Gigilatrotolo numero 4, Feritaino Edition numero 44, Thales Wendy Rings numero 4, PMI Polis and Me numero 8, Starving Anonymous numero 3, Nisekoi 24, Vigilante Maida Academy e Ligaz numero 7. Il 22 di gennaio Gintama 57, Asa Losi Space numero 2, Kivou Kedden numero 5, Miz 14, Lavia Wario numero 2, Oresama Teacher 26, One Piece in Edition 83, The Answers Magus Bride numero 11 e Toy Eternity numero 6. E concludo con il 29 di gennaio anche per quanto riguarda la Star Comics con Io sono Shingo 4, Dragon Ball Super 10, Dragon Questarga l'Emblemma dei Rotto 2 e l'Erede dell'Emblemma numero 13, Dragon Questarga l'Emblemma dei Rotto 2 e l'Erede dell'Emblemma numero 13, Dragon Mufu Color e la Saga dei Star Wars DSL numero 5, I Dipinti Maledetti numero 5, Yona la Principessa Scarlata numero 12 e Perfect World numero 5. E queste erano anche tutte le novità che hanno annunciato per queste due case editrici. E devo dire la verità, hanno annunciato diverse uscite, prenderò di sicuro Yona, come sto apprezzando molto anche Perfect World e soprattutto anche Dipinti Maledetti numero 5 in questo caso che mi do l'ora di leggere, che devo dire mi sta colpendo soprattutto per quanto riguarda la trama, una trama diversa dal solito che vi straconsiglio tra l'altro. Bene ragazzi, con questo mi sembri fatto vedere tutto, spero che il video vi sia piaciuto e fatemi sapere come al solito con un commento qua sotto se prenderete alcuni dei titoli che ho citato che sarei veramente molto curiosa di saperlo. E con questo ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!